Era stata bloccata dalle autorità egiziane il 2 gennaio nella striscia di Gaza con 26 italiani, parte di una delegazione che stava portando aiuti alla popolazione palestinese. Una situazione che aveva suscitato apprensione tanto da richiedere un intervento delle autorità diplomatiche italiane. Oggi Stefania Boi, l'attivista nuorese di nascita, cagliaritana di adozione, collaboratrice dell'Unione Provincia Sarde, ha fatto tappa a Nuoro per incontrare il presidente della provincia Roberto De Rio, che in quelle ore di tensione, in cui non si conosceva quale fosse il suo destino, aveva scritto una lettera al ministro degli esteri, Emma Bonino, sollecitando un intervento per consentire il rientro in Egitto di Stefania Boi e dei suoi colleghi. Una richiesta a cui il titolare della Farnesina aveva risposto prontamente, tanto che nelle ore successive la situazione si era normalizzata e i cooperanti erano riusciti ad entrare in Egitto e poi ad arrivare fino al Cairo. Nell'incontro con la stampa Stefania Boi ha raccontato la sua avventura e ha descritto la situazione in cui si trova a vivere la popolazione palestinese della striscia di Gaza, di fatto sotto assedio e con un'unica via di uscita costituita dal valco di Raffa. Un posto di frontiera chiuso comunque sottoposto a controlli estenuanti anche vista la situazione di tensione attraversata dall'Egitto.